Noi abbiamo raggiunto, abbiamo firmato qualche giorno fa un accordo molto importante, come lei sa, sul riconoscimento dei titoli di studio. Ci sono altri due accordi su cui io sto lavorando da tempo e il governo italiano lo sta facendo ugualmente. Quello sulla collaborazione tra le forze di polizia e quello sulle doppie imposizioni. Come è noto da parte del Ministero dell'Economia Italiana, sono state chieste delle ulteriori limature, direi, delle integrazioni rispetto alla proposta di accordo sulle doppie imposizioni. Il mio obiettivo è di riprendere un dialogo serrato e di arrivare entro quest'autunno ad avere due testi per tutti e due questi accordi maturi per la firma. Questo è stato il contenuto dell'incontro con il Ministro Mularoni, con la quale abbiamo sempre mantenuto in questi mesi una eccellente collaborazione miglaterale.